Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio, di nome Emmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro, che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono con volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose, Solo tu, sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che è accaduto in questi giorni? Domandò loro, che cosa? Gli rispose, ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i cammi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crucifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermavano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato, come avevano detto, le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro, stolti e lenti di cuore, a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo battisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiega loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio, dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistentero. Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando portavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo chiede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro. Non ardeva forse in noi, il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture. Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e altri che erano con loro, i quali dicevano Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi nallavano ciò che era caduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Il racconto di Emmaus è certamente uno dei più veri racconti delle apparizioni post-Pasquale. Viene narrato, come abbiamo sentito, da Luca alla fine del suo Vangelo. Il taglio che darò a questa meditazione è che vuole centrare sul tema delle periferie e con la parola chiave, o restiero, è dunque diverso da quello che ha trattato da par suo in un bellissimo intervento ottenuto ai diaconi della campagna nel marzo di quest'anno dal cardinale presidente della CEI, Gualtiero Passetti, parlando del diacono, della sua missione nella Chiesa e confrontando la diaconia proprio con questa pagina che abbiamo appena sentito. Ed è stata pubblicata nel numero 215 della rivista del Diaconato in Italia. Rimandando dunque a questa bella riflessione, per le cose che io non dirò, come ho già annunciato, mi soffermo invece su Gesù forestiero e sulla periferia in cui si trovano i due di Emmaus. Si tratta veramente di una periferia, delle tante periferie dell'impero romano. Prima che diventasse famosa nella tradizione cristiana per questa vicenda, Emmaus non doveva essere una grande località, qualunque sia dei tre luoghi identificati oggi dagli studiosi, dagli archeologi, dalla tradizione con l'Emmaus biblica. E' un po' la stessa sorte di Nazareth, che non esiste, non compare mai nel Primo Testamento, forse soltanto una volta nelle fonti rabbiniche. Nazareth semplicemente non c'è nella geografia. E così Emmaus. Forse per questa ragione il percorso dei discepoli che tornano a casa da Giacosanelme e vanno verso quella che può essere considerata una peniferia, può essere interpretata questa scena anche in senso spirituale e non soltanto come una lettura esgetica. In un'interpretazione esistenziale, il percorso verso Emmaus è proprio quello della vita, presa dal circuito della delusione, ma che è il pellegrinaggio di tutti i giorni, dice il versetto 13, in quel giorno, fatto di progetti, cioè l'arrivare a una destinazione, di fatiche, il dover percorrere questa dosina di chilometri, di tristezze, col volto triste, scrive Luca al versetto 17, di pause, ripensamenti, come quello di cui si parla ancora nello stesso versetto, si fermarono. È il cammino della routine quotidiana. Un giorno come un altro, una strada come un'altra, lontana da Gerusalemme, il normale pendolarismo, ancora un'altra delusione. Santo Ebrano, infatti, tutto accade nell'assoluta ferialità, non ci deve sfuggire questo elemento, che noi cristiani facciamo fatica a cogliere. Luca scrive, all'inizio di questo capitolo 24, in cui si trova la pagina, che tutto accade il primo giorno della settimana. Hanno ragione coloro che sottolineano che questa espressione, forse vuole alludere allo Yom Nehad, nella settanta, proprio come scrive Luca, è mera mia, cioè il primo giorno della creazione. C'è un riferimento a qualcosa di più grande, che è il racconto dell'inizio. Ma nel computo della settimana giudaica, per chi sentiva questa espressione, si capiva che era il giorno dopo il sabato, cioè in rapporto alla loro settimana, alla nostra, un semplice lunedì, il primo giorno della settimana, è il giorno feriale, in assoluto, il giorno dopo il sabato, quello è il ritorno della vita di tutti i giorni. ci colpisce perché rispetto ad alcune pagine, in particolare la pagina della trasfigurazione di Gesù sul monte, che viene resa dagli autori col massimo dei mezzi retorici, stilistici, per descrivere lo splendore di Gesù, del suo volto, della sua veste, l'atteggiamento dei discepoli, almeno quelli presenti, che si inginocchiano, si prostrano, perché vedono questa grande manifestazione. Qui siamo di fronte a una ferialità sconcertante. Il risorto si mostra, è lui, e non viene riconosciuto. E la seconda pagina, che dicevamo ieri, delle tre che commentiamo, dove avviene la vera e propria anagnolisi, cioè l'annizione, che scopriamo, non è solo uno strumento retorico, di cui parla Aristotele nella poetica. L'annizione è il modo con cui Dio vuole che lo riconosciamo, perché è come lui decide di rivelarsi e di parlare. Penso anche alla grande distanza che c'è tra questo racconto e gli apocrifi come il Vangelo di Pietro, nel quale il risorto deve essere riconosciuto anche dai pagani, Anche da Pilato, il Vangelo di Pietro, dice che la gloria di Gesù oltrepassava le nuvole. Gesù ha dimensioni gigantesche, il suo corpo penetra nei cieli. Quando il risorto appare ai suoi, tutti devono vederlo. Invece, nei Vangeli canonici, quando il risorto ritorna o non è riconosciuto o è scambiato per qualcun altro. I due discepoli non lo capiscono, quello che sta succedendo, e non lo riconoscono, soprattutto perché sono presi da quello che abbiamo chiamato alla forte disillusione. Si coglie dal verbo all'imperfetto, è il pizomen. Dicono questo, cioè non sperano più. L'imperfetto è il tempo delle azioni accadute nel passato, che si compiono nel passato, non hanno più alcuna relazione con l'oggi. Noi speravamo, cioè vuol dire, e abbiamo finito di sperare. Quell'antica speranza, dicono che non lascia tracce, anche perché i discepoli credevano nella liberazione di Israele, come riferiscono. Aspettavano la venuta del regno concomitante con la cacciata dei Romani, ma i Romani erano proprio coloro che, non lo sanno, hanno messo a morte Gesù. I due di Emmaus non solo si raccontano quanto accaduto, ma si rafforzano reciprocamente nelle loro idee. A leggere il testo, in greco, infatti, il versetto 14 suggerisce che si tenevano l'un lato una predica, è il modo con cui Van Bovon traduce questa espressione, che è proprio retta dal verbo omileo, che gli aponi, i presbiteri, conoscono bene. Significa farsi l'omilia, autori, come l'un, rossa alle luce. Si facevano una bella omilia reciprocamente. Romani dice, è una conversazione molto seria, è proprio quasi una predica. La loro delusione si rafforza nella visione, che dice indevolmente, si raccontano. È un meccanismo a cui siamo abituati, soprattutto in alcune situazioni comunitarie. Ieri abbiamo sentito Marta, che si lamenta con Gesù per rimproverare la sorella. Quante volte nella Chiesa ci lamentiamo? E si innesca così quel fenomeno ricorsivo che caratterizza le lamentere contro il Papa e la Chiesa di oggi. Forse per i tuoi di Emmaus di lamentarsi c'è anche ragione. I Vangeli infatti non nascondono niente e nemmeno lo smarrimento che caratterizza quel tempo tra la morte, la risurrezione del Signore, la sua rinnovata presenza e la sua agnizione in riconoscimento. Passa a rileggere l'ultimo capitolo ventunesimo di Giovanni dove anche Pietro ad un certo punto dice io vado a pescare perché non vede il risolto. I discorsi che i due discepoli si scambiano però non solo rafforzano la loro delusione ma portano anche a una divisione. Alcuni hanno notato e proprio è commentato il significato del verbo antiballo al versetto 17 con il quale questa volta è Gesù che descrive il loro comportamento. Antiballo non significa solo discutere in greco ma il suo primo significato è proprio lanciare contro disputare controbattere i due stanno litigando. Che cosa succede? Cosa fare quando c'è un segno così evidente della crisi della delusione? la salvezza viene dallo straniero e nelle periferie. È un processo a cui ci abituano i Vangeli e ci vogliono educare in particolare attraverso i due segni importanti che si trovano nei racconti delle apparizioni del risorto. Il primo è la tomba vuota. Anche il Catechismo Universale dice il primo elemento che si incontra nei racconti di Pasqua è la tomba vuota. Senza la tomba vuota null'altro ha senso. Ma questa non basta. È necessario infatti che ci siano gli angeli ermeneuti gli interpreti sono questi che hanno la capacità di riferire un'altra versione rispetto a quella che per esempio si fornisce Maria che si dà una spiegazione hanno portato via il Signore o che si trova nella finale di Matteo e che viene data dai politici dai soldati e cioè i discepoli hanno rubato il cadale. Gli unici che danno la soluzione per la crisi sono gli angeli di ermeneuti o uomini per esempio in alcune versioni che dicono si è alzato è stato sollevato è risolto. Secondo i Vangeli a guardare bene l'unico che non ha bisogno però di spiegazioni dagli angeli è il discepolo che Gesù amava. Nel racconto del capitolo 20 di Giovanni lui va alla tomba vuota e senza che nessuno gli dica nulla vide e credete cioè lo spazio vuoto per lui è sufficiente come per gli ebrei lo spazio vuoto sull'arca dell'alleanza segnalava la presenza di Dio. E dunque Giovanni è colui che scrive l'autore aveva capito le scritture non avevano ancora capito le scritture e invece il discepolo amato è in grado di farlo come i due di Emmaus ora vengono messi in grado grazie alla cura dello straniero. Per uscire dalla crisi la metodologia di Gesù è molto chiara si sviluppa in questi passaggi il primo che viene dalla sua stessa caratteristica così come viene definito in questa pagina del Vangelo cioè come un paroikeis forestiero traduce la versione Cielo. Il termine in realtà non è un sostantivo è un verbò paroikeo che conosciamo bene perché da qui viene la nostra espressione italiana parrocchia cioè lo stare parà vicino accanto alla oichia oicheo abitare la parrocchia sta vicino alle case par oicheis significa colui che abita vicino tucibide diceva confinante ma di oggi nell'Aerzio traduce straniero capisce proprio colui che abita vicino ma non ha una residenza lì proprio come nella Bibbia viene descritto Abramo e si dichiara straniero agli titi e dai quali acquista la tomba per Sara e che viene descritto nella lettera agli ebrei come forestiero qui lo stesso verbo paroicheo cioè colui che non ha una residenza che abita nella terra come in una regione straniera il dono dello straniero dunque è quello di portare una prospettiva altra impensata capace di rovesciare il tavolo dalle carte incartate che lo occupano da troppo tempo nella stessa posizione quello che sembra un normale pellegrino che è andato a Gerusalemme per la Pasqua e che pare non essere al corrente di quanto accaduto è invece l'unico capace di vedere le cose come stanno veramente e raccontarle con una sua versione cosa fa Gesù? cammina con loro va verso la periferia che abbiamo così definito Emmaus come poi farà Silipo di cui parleremo domani uno dei sette che scende proprio in Samaria per finalmente correre e poi raggiungere il carro del funzionario etio per salirli e incontrare il primo pagano al quale si rivolgerà la chiesa il risorto cammina si prende tempo diceva Ieri sorrita scrivendo quello che ha fatto andando sulle strade è quello che fa Gesù e si prende il tempo che è necessario come gli angeli interpreti nei racconti delle apparizioni si mettono seduti come il neanisco si giovinetto nel Vangelo di Marco con una postura che emula quella del Cristo seduto alla destra di Dio oppure la scena più evocativa Gedeone che viene interpellato dall'angelo che si mette seduto prendendo tempo per parlare con lui e spiegargli la sua vocazione Gesù dunque decide di fare questo tratto di strada e poi pone delle domande è interessante anche Filippo ricordiamo con il funzionario etiope non presenta subito il Kerigma chiede all'enuco capisci quello che leggi e così Gesù lascia che siano i due di Emmaus a parlare se ieri abbiamo descritto una pagina nella quale Gesù viene ascoltato e abbiamo detto che la prima carità è quella della diaconia dell'ascolto qui Gesù la compie per primo Gesù ascolta si fa raccontare la storia e con pazienza la elabora e non dà subito la soluzione e questo interessante non nega nemmeno quello che i due stanno dicendo impossibile è davvero morto è vero è stata una sconfitta pone delle domande quindi dà loro credito ed è quello che succede spesso nei Vangeli quando Gesù lascia parlare l'altro come il nomicossi il dottore della legge a cui chiede che cosa sta scritto nella legge come leggi tu è un investimento di fiducia con il quale si ascolta l'opinione dell'altro anche se poi si scopre è molto differente dalla tua ed ecco che però Gesù ora interviene ha ascoltato la loro versione e ora li riprovera come ieri abbiamo sentito ha educato Marta riproverandola in gioco non c'è tanto il fatto che non l'abbiano ancora riconosciuto ma la loro incapacità di comprendere le scritture è quello che dice Gesù i due di Emmaus sono proprio come Marta e per questo vengono educati perché sono annoetoi cioè senza intelligenza bradeis cioè lenti nel capire e nel credere alle scritture perché hanno mancato di esercitare non solo la fede ma anche l'intelligenza non è solo una questione di fede ma c'è anche il nus la testa l'intelligenza in mezzo ed ecco il penultimo passaggio Gesù finalmente ora tiene lui la sua omelia o meglio spiega il verbo è quello dell'ermeneutica la spiegazione l'interpretazione dice Luca di ermeneutica cioè interpretò che cosa fa il forestiero cosa fa uno che viene da fuori dalla sua interpretazione a fronte dell'omelia che i due si erano fatti Gesù in tre c'è un vero e proprio sermone che ha delle caratteristiche importanti addirittura come segeta sostiene che questa sia la conclusione del capitolo quarto del Vangelo di Luca cioè quello che dice di Gesù che nella sinagoga di Nazareth tiene la più breve omelia della storia solo nove parole nella lingua greca oggi per voi che le avete udite si sono conchiute queste parole e questa omelia che è così breve in realtà finisce qui l'interpretazione dello straniero che è un'interpretazione che sblocca quei sentieri interrotti che ci tornano alla mente quando pensiamo a quello che scriveva un filosofo Martin Heidegger che conosceva la foresta nera dove lavorava e scriveva legnaioli guardaboschi conoscono bene i sentieri interrotti sanno che cosa significhi trovarsi in un sentiero che interrompendo si svia finisce lì il rischio della chiesa di molti discepoli di noi è quello di perdersi in strade che non portano nulla in pensieri che si ripetono in loop che sono sempre gli stessi e Gesù sblocca questa tentazione con la sua parola ed ha un'altra interpretazione non possiamo soffermarci su questo aspetto quello che conta è che Gesù senza negare nulla di quello che dicono i due di Emmaus e senza negare nulla della Bibbia offre un'altra versione è un'altra storia che è corretta perché mancava la conclusione a quella che i due discepoli si raccontavano ed è la tipica lettura cristiana quella che aggiunge qualcosa senza togliere nulla al primo testamento Gesù aggiunge quello che nelle profezie non si trovava così chiaramente e che può essere compreso solo alla luce della sua risurrezione e dopo aver dato la sua interpretazione infine Gesù spezza il pane per loro ecco è il gesto della veracca con il quale viene riconosciuto perché evidentemente i discepoli erano abituati a vederlo lo riconobbero lo spezzare del pane incrociando dunque quello che Gesù sta facendo a Emmaus con quello che Gesù doveva già aver già fatto e la memoria scrive Aristotele della sua poetica che la anagnolisis l'inizione avviene attraverso il ricordo via manenes si capiscono le cose quando grazie al ricordo tutto allora si veda tutto torna alla superficie come quando Aristotele racconta proprio Ulisse che viene riconosciuto perché piange quando Alcino il re che lo ospita nella sua isola vede lui disperarsi tra i sigliorzi mentre viene raccontata la storia del grande Odisseo Odisseo è anche lui in esilio in una periferia non si trova ad Itaca non si trova nella capitale o nei luoghi più importanti della sua nazione si trova nella terra dei Feaci è entrato in un palazzo straniero non lo riconoscono solo quando piange al ricordo delle sue imprese viene riconosciuto nella cena di Emmaus Gesù compie un gesto ed è riconosciuto perché aveva fatto però un tratto di strada con i discepoli forse per riconoscere Gesù dice la pagina che stiamo commentando è necessario fare un tratto di strada con lo straniero farlo entrare nella propria casa nessuno dice che sia un albergo non è scritto sedersi con lui alla tavola e la conclusione della pagina è bellissima il ministero dei due di Emmaus che scaturisce da questa periferia viene portato a Gerusalemme come dice Papa Francesco la periferia è diventata il centro quella località mai nominata come Nazareth diventa il centro dell'incontro e dalla periferia si può ripartire certo Emmaus non è Gerusalemme ma si può di nuovo andare lì come abbiamo ascoltato e quindi a Gerusalemme raccontare quello che è accaduto per fare questo siamo tutti invitati a cercare Gesù non dove vorremmo noi o dove pensiamo che sia ma dove si lascia trovare come un parochèis uno straniero che cammina accanto a coloro che sanno accogliere grazie a tutti grazie a tutti